Continua la fuga della popolazione del Sudan. Migliaia di persone sono arrivate al confine con l'Egitto nella speranza di poter sfuggire al violento conflitto in atto nella nazione africana. Ogni giorno sono decine le famiglie che scappano da Khartoum, epicentro della guerra civile che ha raggiunto la frontiera egiziana, ha dovuto viaggiare per oltre mille chilometri attraverso zone desertiche in condizioni spesso drammatiche. La guerra civile intanto continua nonostante i tentativi diplomatici in atto in Arabia Saudita.